Si risparmia tempo, spazio e denaro e allo stesso tempo si contribuisce al corretto smaltimento di rifiuti. Dopo la recente installazione di un eco compattatore in via terza strada a Bellocchi di Fano, un altro macchinario mangia rifiuti è stato attivato in via del progresso a calcinelli di Colli al Metauro. Oltre che conveniente, è facile da utilizzare. Ogni categoria di materiale deve essere inserita, non schiacciata o compressa ma integra nello specifico cassetto, poi il macchinario provvede a ridurne il volume. A ogni inserimento è rilasciato uno scontrino con i punti ambiente, validi come buono sconto per la spesa. È possibile utilizzare anche la tessera sanitaria come contatore personale per accumulare e memorizzare i punti ambiente al fine di stampare lo scontrino in un secondo momento. Il materiale si può conferire nell'appogito posto che appunto sono questi, quindi sono tre tipologie di materiali che si possono conferire tra flaconi di detersivi, bottiglie di plastica e la lattina in alluminio. Quindi si divide il tapo, che sono due materiali diversi, si apre il cassetto e si conferisce il materiale. Dopodiché sul monitor vi verrà fatto vedere il numero di conferimenti, dopodiché potete scegliere la vostra attività dove spendere i punti. Il nuovo servizio è fornito in aree private e nasce da un accordo tra l'impresa fornitrice dell'eco compattatore e l'attività commerciale. Ma vi è anche un compito importante di ASAT SPA che è successivo e che consiste nell'avviare al recupero i rifiuti conferiti. Abbiamo visto che c'è una sensibilità importante da parte dei cittadini, in particolar modo dei giovani, ma anche di tutto, anche delle casalinghe e quindi l'occasione che ci è stata presentata di poter installare un'altra struttura come questa in un comune che non è Fano, perché ASAT dobbiamo anche ricordare che non è solo Fano ma è anche altre realtà, sono altre sette comuni, ci fa particolarmente piacere. Quindi speriamo che abbia lo stesso successo. Questo vuol dire che i cittadini se vengono messi nelle condizioni di poter in qualche modo portare avanti dei comportamenti virtuosi e avere meno, sforzarsi un po' di meno, fare meno sacrifici, naturalmente ci compensano con un servizio ulteriore che danno e quindi questa è la cosa che per noi è veramente importante.